Io in primis saluto l'amministrazione comunale, il sindaco Gabriele D'Angelo e passo subito la parola al consigliere comunale, Antonello D'Angelo. Buonasera a tutti, sono il consigliere comunale di Cazzo e Pettano, con la lega allo sport. Questa sera, che sono veramente onorato, mi dai, mi sono venuto personalmente a tutti i voi presenti qui a Cazzo e Pettano, in particolare, in questo teatro, dove, tra pochi minuti, assisteremo a un dibattito che è stato un argomento a noi molto caro, vale a dire che abitudini alimentari. Intempereranno la professoressa Cristiana Antonelli, la dottoressa Chiara Bostiavo, la dottoressa Simona Presenza, il nostro sindaco, il signor Gabriele D'Angelo, il presidente della Virtus Cazzo e Pettano, Gianni Maspirini e il signor Gabriele di Felice. Certamente so, e parlo dal genitore, l'importanza dell'alimentazione e della...